Ben tornati, è il momento delle applicazioni, ti passo la parola. Ne vediamo subito con Gigi, la prima, che hai scelto EuroCoin e mi ricorda qualcosa, perché il suo autore, l'inventore, era stato qui ogni anno fa. Un amico di Netcafè, Davide Orlando, che ci ha presentato questa applicazione, che l'ho trovata curiosa, perché quante monete dell'Euro ci sono in Europa? Sì, me lo ricordo. Ecco, qua le troviamo tutte, perché sono tutte catalogate e ovviamente lui ha creato un'applicazione. Era un sito questo, Gigi, che poi si è trasformato. Perfetto, che si è trasformato in un'applicazione e possiamo anche collezionarle, per cui possiamo dire questa ce l'ho, questa mi manca, posso scambiarle e via di seguito. Quindi è anche un aspetto un po' sociale, non solo ludico, però è anche carino vedere quanti tipi diversi di monete ci sono, perché sappiamo che l'Euro ha una faccia uguale per tutti gli Stati, mentre quella dietro, diciamo, la croce, chiamiamola così, ogni volta è personalizzata. Per cui, insomma, veramente divertente, utile e poi soprattutto era un amico di Netcafè, insomma, ci piaceva parlare anche di italiano ogni tanto. E dopo questo appunto maggio italiano, passiamo alla seconda, che è Tap DJ.